Hai un manoscritto e non sai a quale editore rivolgerti? Hai pubblicato un libro e vuoi farlo conoscere? Vorresti che la tua opera diventasse un film o un documentario o venisse rappresentata in teatro? Vivere e raccontare potrebbe aiutarti. Come? In studio, con me e con te, editori, registi, produttori esprimeranno i loro pareri sul tuo progetto. E Aracne TV mandare in onda l'intervista. Vivere e raccontare, tutti i giorni dalle 15 alle 15.30 su Aracne TV. Ah, dimenticavo. Vivere e raccontare è un programma dedicato a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo. Scultura, pittura, architettura, fotografia, fumetto, musica, danza, cinema e teatro. E naturalmente letteratura. Vita, morte e miserie del documento. A parlarci di questo conosciutissimo sconosciuto, oggi qui in studio a vivere e raccontare l'avvocato Marco Cupunto, Silvi, che saluto. Buongiorno. Allora, dicevo, intanto poi mi dirà a cosa corrisponde quel cupunto, dopo. Dopo. Intanto, ho detto, conosciutissimo sconosciuto perché in qualche modo noi abbiamo a che fare con il documento, in senso più lato, quotidianamente e continuamente. Però in effetti non lo conosciamo sotto un profilo più strettamente giuridico. Sì. È questo il tema del libro che lei pubblicherà a ottobre con la RACNE e che si intitola Documento e realtà giuridica. Giusto? Sì, giusto. Sì, il tema è fondamentalmente questo, nel senso che il documento popola la nostra vita quotidiana. Quando appunto ci arriva una multa, andiamo a fare la spesa, ci danno lo scontrino, mandiamo dei messaggi, facciamo degli acquisti online, agiamo sull'internet banking, oggi possiamo pagare anche col cellulare così, sono tutti, lasciamo documenti, creiamo documenti e trattiamo documenti, però non ce ne rendiamo conto e la giuridicità del fatto è che queste cose le possiamo fare perché c'è un documento che ha certe caratteristiche riconosciute dal diritto. In realtà anche col diritto abbiamo a che fare molto più di quanto ce ne rendiamo conto, perché quando appunto facciamo quelle cose che facciamo prima, dicevo, facciamo anche degli atti giuridici, compiamo. Quindi l'idea è proprio quella di mostrare la specificità del documento come oggetto giuridico, ma anche l'importanza che il documento ha nella costruzione, nella possibilità di tutte le cose che possiamo fare. Una realtà documentabile, quindi ha a che fare con il diritto, in qualche modo lo scontrino che ci rilasciano all'atto di un acquisto, non ha a che fare con il diritto in senso stretto il messaggio che mandiamo col telefonino. Esatto, no, però ad esempio se mandiamo un messaggio alla nostra banca perché facciamo un bonifico, quello ha a che fare con il diritto. Se appunto con il telefonino diamo a un amico, però quello rimane come documento, cioè come fatto documentabile. Quello rimane come fatto documentabile, sì. Avvocato, come è venuto in mente di fare questa ricerca? Allora, io appunto mi occupo anche di filosofia del diritto, tengo un piccolo corso, collaboro con la Cattedra di Filosofia del Diritto in Bicocca a Milano, tengo un corso di informatica della pubblica amministrazione e mi sono molto occupato di quella, diciamo quella scienza, che si chiama ontologia sociale, che studia proprio quegli oggetti come i matrimoni, i giochi, il diritto, sono oggetti di natura convenzionale, che hanno una realtà oggettiva come le piante, le montagne, però dipendono molto dalle convenzioni, dagli osservatori. e in questa logica, al centro di questa ricerca c'è sicuramente l'importanza del linguaggio, degli atti di linguaggio che noi compiamo per creare cose, istituzioni, ma in realtà sta venendo sempre più emergendo anche l'importanza del documento. per creare istituzioni e cose, sì, il linguaggio è importante, ma anche i documenti hanno una funzione costitutiva e costruttiva della realtà. Quindi la prima spinta, diciamo così, è stata di tipo più filosofico? Sì, più filosofico, esatto, però poi anche con una ricaduta concreta, perché oggi soprattutto col fenomeno, diciamo, dell'internet e dell'informatica, abbiamo evidente l'importanza del documento, perché oggi c'è un'esclusione, diciamo, dei documenti con informatica. Diciamo che oggi tutto è documentato. Sì, tutto, è difficile, diciamo, non documentare qualche cosa, ecco, in qualche modo, sì. E qui anche l'importanza del legame tra il diritto e il documento, perché in realtà documenti li abbiamo ovunque, ma è il diritto che ci dice quali questi documenti possono essere validi, hanno un valore più importante di altri. Noi possiamo scrivere anche dei documenti sulla sabbia, però è solo il diritto che ci dice quali sono i documenti che valgono. Quindi il documento come fenomeno prettamente giuridico. Esatto. Questo è un aspetto della ricerca. Sì, sì, e l'esempio dell'informatica è appunto importante, perché se noi pensiamo che la base, diciamo, dell'informatica, il documento dal punto di vista tecnologico, è un qualche cosa di estremamente emendabile, infinite volte, pensiamo a un documento Word di cui non resterebbe neanche traccia, oggi in realtà si sono sviluppati software e tecnologie che cercano proprio di garantire quell'immodificabilità, quella tracciabilità dei documenti, perché? Perché è il diritto che pone alla base, diciamo, della sua regolazione del documento proprio l'idea della sicurezza, della certezza delle iscrizioni, della certezza dei traffici che il documento deve garantire. E in che senso invece diviene categoria del diritto? Diviene categoria del diritto perché, nell'altro senso, perché il documento consente anche di costruire, di sviluppare certe istituzioni, certi istituti anche giuridici, proprio perché noi lo possiamo fare, proprio perché abbiamo dei documenti, cioè certi sviluppi, certe realizzazioni le possiamo avere perché disponiamo di una tecnica, diciamo così, documentale che si è sviluppata in un certo modo. Nel senso, secondo me, io riporto spesso anche gli studenti, più un esempio letterario, ecco, che è tratto da, che tutti conoscono un po' dai tre moschettieri di Dumas, c'è a un certo punto Cagnani di Richelieu che dà un compito a Miledi di andare fondamentalmente ad assassinare il duca di Buckingham. Miledi dice sì, lo faccio, ma voglio un salvacondotto per poter vendicarmi di D'Artagnan. Allora Richelieu scrive un documento dicendo il latore del presente ha fatto ciò che ha fatto per il bene dello Stato. Quindi dà un salvacondotto al portatore. Allora, in questo senso, perché lui avrebbe potuto semplicemente dire sì, fai, vai, in realtà il documento serve perché in un contesto come quello della Francia, di uno Stato complicato, è importante poter documentare il fatto di agire con una licenza di uccidere fondamentalmente. Senza questo il solo ordine verbale dato dal Cardinale Richelieu non potrebbe operare, quindi non potrebbe concretamente agire. Oppure agirebbe ma rischiando la carriera e la testa. esatto. Quindi lì, diciamo così, l'utilità era per poter fare qualche cosa che poteva rappresentare un reato. Ma in realtà vale per qualunque. Sì, questo qui era solo per dire che lo si può fare perché c'è un mondo complesso. Questo è un esempio più… un altro esempio è quello che noi possiamo avere nel caso dei mercati finanziari. Lì noi abbiamo tante transazioni. Noi siamo abituati a vedere nei vecchi film il recinto delle grida dove si comperava, però in realtà ciò che consente la costruzione di un mercato finanziario, quindi la transazione, è il fatto che dietro quelle grida, quelle atti di compraventi che oggi tra l'altro si fanno tutti informaticamente, però c'è di base sempre una registrazione di quelle transazioni. Quindi anche nella borsa. Anche nella borsa. Oggi la borsa, vabbè, oggi appunto non c'è più neanche il fatto parlato ma c'è soltanto l'aspetto informatico. Ciò che consente la borsa è la registrazione delle transazioni, cioè quindi la documentazione delle transazioni, perché il documento consente lo sviluppo di sistemi complessi. Che addirittura poi ha rimbalzo perché le arriva una multa, poi le arriva la notifica che le è stata notificata appunto la multa, poi una seconda notifica che si riferisce alla prima. Certo. Il documento in questo senso, io dico sempre che svolge un ruolo quantitativo nella costruzione della realtà, perché fa due cose principalmente, che magari il solo linguaggio verbale non riesce a realizzare. Supera i limiti nel senso spaziali, nel senso che mentre se io le dico appunto, come dice Gliè, dava l'ordine a Miledi, lo danno in due, magari ci può essere un testimone che sente e quindi l'effetto diciamo della mia comunicazione si esaurisce tra chi ascolta. Il documento invece porta questa mia comunicazione potenzialmente in giro per il mondo. Con internet oggi tutti possono accedere al contenuto di un documento. Quindi avere in tempo reale una convalida. Sì, esatto. E quindi io posso trascendere la dimensione dei contesti a due per portare a dimensioni sociali molto estese, composte di grandi quantità di persone. Soprattutto oggi. Soprattutto oggi. Oggi io posso andare dal capo all'altro del mondo, la stessa notizia in tempo reale e quindi potenzialmente tutti coloro che possono accedere a internet possono accedere al contenuto di quel documento. La seconda cosa che può fare il documento e che non può fare la comunicazione verbale è conservare nel tempo quella comunicazione, quell'atto. Per cui oggi, le dico, oggi Richelieu dà ordine a Miledi di andare a commettere un certo omicidio, diciamo così, di Stato e domani tutti se ne possono dimenticare. Invece il documento tiene traccia nel testo, c'è testimonianza. E ormai questo, voglio dire, si fa nel senso che c'è sempre il timore che qualche cosa possa poi scomparire, quindi si cerca in qualche modo. Questo sotto il profilo quantitativo. Invece sotto il profilo qualitativo? Sì, questa è una cosa un po' più complicata, nel senso che il documento può essere utilizzato anche per, non solo quindi per rendere concretamente più efficace certe pratiche istituzionali, come ad esempio la borsa che facevamo prima, ma consente anche di rendere concepibili degli oggetti, delle istituzioni o dei fatti in qualche modo sociali, che vengono chiamati un po' così, che altrimenti non sarebbero concepibili senza dire di documento. L'esempio che faccio sempre, tornando al caso di Miledi, e lì come funziona la licenza di uccidere che dà Richelieu? Non dice Richelieu che Miledi è autorizzata a compiere queste cose, ma dice il portatore del presente biglietto. Tant'è vero che poi alla fine del romanzo D'Artagnan giustizierà insieme ai suoi amici Miledi e prenderà il biglietto e quando Richelieu lo vuole condannare, arrestare, lui dice ma io ho fatto questa cosa per il suo ordine. Ingenuità di Miledi? Esatto. No? Sì, però addirittura ingenuità anche di Richelieu, perché poi D'Artagnan presenterà a Richelieu il biglietto dicendo io ho fatto questa cosa proprio per il suo ordine. Lì cosa ha fatto? Lì ha creato una specie di salvacondotto al portatore. Allora l'idea è che questa idea del portatore può essere fatta solo perché c'è un documento, cioè neanche sarebbe immaginabile un'esenzione al portatore se noi non avessimo già l'idea di documento. Forse nei servizi segreti. Sì, forse. Ma chi lo sa, forse anche lì il 007 si... Sì, forse avranno anche lì una base documentale. Però ad esempio, per fare degli esempi un po' più forse concreti, pensi ai titoli di credito, le cambiali, gli assegni, quelle cose si possono avere, anche pensare, solo perché abbiamo dei documenti. Quindi in questo senso il documento ha un ruolo qualitativo. Senza l'idea di documento noi non potremmo neanche avere l'idea di titolo di credito. Oppure le monete, la banconota, anche lì è resa proprio idealmente possibile per il fatto che impieghiamo dei documenti, intesi appunto come una cosa che rappresenta un fatto. Quindi là dove c'è relazione si deve essere una forma di documentazione. Il libro in qualche modo è documento. Sì, anche il libro esatto, documenta. Lì documenta diciamo più un pensiero, mentre diciamo gli aspetti di cui io mi occupo è, riguarda i casi in cui il documento documenta l'azione, no? Io posso, non so... C'è questa relazione. Sì, documenta l'azione, anzi forse diciamo io agisco attraverso il documento. Del resto quando gli arriva una multa non è che il vigile le fa il verbale per il gusto di aver documentato, ma principalmente glielo fa per fare la multa, dice ecco qua questa è la multa, quindi principalmente uno documenta per agire, per portare a destinazione del destinatario di un terzo quell'atto, quell'azione. Poi di questa si dà anche traccia nel documento, quindi ha questa doppia funzione il documento. Il documento ha valore nazionale e internazionale, ma ci sono dei documenti che hanno valore solo nazionale? Diciamo, come dire, anche quello è il diritto che stabilisce che cosa è il documento. Oggi ad esempio nel mondo dell'informatica i protocolli sono più veloci del diritto, quindi il diritto magari da, come sempre arriva un po' dopo, da delle regolazioni che si attestano sul presente mentre la tecnologia sopravanza. Infatti le nostre norme, diciamo, in legislazione italiana sul documento sono comunque molto generali, proprio perché vogliono consentire un'apertura proprio allo sviluppo appunto di protocolli che ogni volta sono diverse, anche se ad oggi per noi è importante l'idea della firma, quindi tutto viene un po' ricollegato al concetto di firma, però nulla vieta che magari una tecnologia futura adotti dei sistemi che sono ancora più sicuri, con strumenti anche diversi, più rapidi che… Dunque, il libro uscirà in ottobre, però lei l'ha concluso e l'ha già consegnato all'aracchene, ma possiamo avere delle anteprime? Per esempio è diviso in capitoli, è diviso in temi? Sì, è diviso, diciamo, in cinque parti, oltre a una parte, diciamo, di premessa, così dove si spiega un po' l'importanza del tema anche dal punto di vista della filosofia del diritto che non ha ancora oggi adeguatamente preso in considerazione questo aspetto, è poco trattato e se ne occupa appunto alcuni filosofi, diciamo, di ontologia sociale, in particolare in Italia abbiamo Maurizio Ferraris che ha costruito una teoria, diciamo, che si chiama documentalità. A cui lei in qualche modo si ispira? Sì, sì, io mi faccio molto a quegli studi, poi Ferraris ha preso anche più, diciamo, si concentrato anche sugli aspetti etici o anche, diciamo, sociali, ecco, del fenomeno documentale, io mi concentro più invece sull'aspetto prettamente giuridico di teoria del diritto. Infatti il secondo capitolo appunto indaga il documento cercando di capire qual è la sua funzione, la sua struttura e poi invece il terzo, il quarto e il quinto capitolo indagano proprio questo aspetto, diciamo, del documento, il contributo che il documento dà nella costruzione della realtà giuridica. Un contributo quantitativo, come le dicevo prima nel dedicato al capitolo 3, un contributo qualitativo, cioè cercare di vedere quei particolari oggetti, quegli istituti che non sarebbero neanche pensabili, diciamo così, senza documenti e poi alla fine un capitolo finale in cui cerco di interrogarmi o fare delle ipotesi su quelle che possono essere se ci sono delle interazioni tra, diciamo, il contributo qualitativo e il ruolo quantitativo che ha il documento, ecco, dove prendo in considerazione alcuni, diciamo, alcuni esempi tratti da studiosi che si mettono in una prospettiva storica, perché probabilmente il rapporto tra qualità e quantità nasce in un contesto di evoluzione storica, storico-evolutivo. Quindi c'è anche questo, no? Questo è scorso sulla storia del documento. Sì, diciamo, in qualche modo sì, sì. Ma secondo lei la fruibilità del testo è legata a un essere, voglio dire, del campo, del settore, oppure può leggerlo chiunque? Ma diciamo così, potrebbe leggerlo anche chiunque, perché dipende molto dal documento, dalla scrittura. Dipende dal documento, dipende, sì, in realtà... Quando lei lo ha scritto ha pensato, per esempio, agli studenti universitari. Nasce sicuramente dai corsi che ho tenuto in università, appunto sul documento e il documento informatico, quindi ovviamente poi comunque l'interazione con gli studenti... Usa una terminologia specifica, giuridica. Sì, però fa degli esempi. Però sì, ci sono... Quello dei moschettieri può capire la città. Esatto, e poi, e quello siccome viene messo all'inizio proprio, nel primo capitolo si parte con quello. E quindi uno ha anche la curiosità di vedere... Esatto, come... Ci sono altri esempi? Sì, sì, appunto, prendo molti esempi anche tratti dalla storia, ad esempio, quando si parla di aspetto qualitativo, che forse è la cosa più difficile, un altro esempio secondo me molto interessante, a ben vedere, sono i segnali stradali. Una segnalettica stradale, anche quelle sono dei documenti. Ma lì è ancora di più, perché nella segnalettica stradale la componente proprio materiale del documento, cioè il fatto che ci sia una realtà, una res, dicono i giuristi, una res rappresentativa, è preponderante. Noi non potremmo neanche immaginare di avere la segnalettica stradale se non avessimo la possibilità di produrre dei documenti. Se ci fosse un mondo senza documenti, non potrei avere una segnalettica stradale, diciamo un po' così. Nel senso che non potremmo ricevere molte o nel senso che non potremmo mai dire c'era la segnalettica ma non l'ho vista? In questo secondo senso, perché io potrei avere benissimo un vigile che sta al centro della strada e movimenta le macchine, però l'idea di mettere segnali di precedenza, segnali di stop, il divieto di sosta e metterlo fisicamente in una struttura fisica, un palo con un cartello, lo posso fare perché c'erano prima dei documenti. Allora, avendo i documenti in mano, ecco che probabilmente è venuta un po' l'idea di fare questa cosa qua. Beh, questa è speculazione filosofica. Sì, sì, sicuramente, sicuramente sì, insomma alla fine. Però è interessante e anche divertente. Tutto può essere riportato poi alla fine al documento. In un mondo ideale il documento potrebbe non esistere. Ecco, in un mondo ideale potrebbe anche non esistere, però se non esistesse il documento probabilmente da un lato non esisterebbero molte altre cose, come appunto ad esempio i titoli di credito non esisterebbero, forse la segnaletica stradale non esisterebbe. In un mondo ideale non c'è bisogno di titoli di credito. Forse non ci sarebbe neanche bisogno del diritto in un mondo ideale, non lo so. Però in realtà, ecco, questi studi di litologia sociale dicono proprio che invece è una caratteristica dell'uomo, quindi anche un mondo ideale dove a misura d'uomo è quella di costruire questi oggetti giuridici, oggetti ideali. Quindi probabilmente in un mondo ideale il documento ci sarebbe. Ecco. Però ci segue tutta la vita. È documentata la nostra nascita, fino alla fine. Tutto viene... Però è riuscito a trattare un argomento tutto sommato non facile in una maniera diretta e divertente. Sì, speriamo, diciamo, speriamo di soprattutto, devo dire che l'interazione con gli studenti è quella che dà anche la misura un po' delle cose, ecco, perché appunto... Come devono essere espresse. Sì, come devono essere espresse, come deve essere chiarite, ma anche non solo come devono essere espresse, ma anche l'idea stessa di alcune cose viene proprio perché uno fa delle domande gli studenti hanno delle reazioni appunto intelligenti perché poi i ragazzi a quell'età sono sempre molto intelligenti. Hai in lavorazione un altro progetto? In lavorazione per ora ho in lavorazione qualcos'altro sempre connesso tra atto e documento. Ah, quindi il documento... Do sempre su questo tema che mi perseguita un po'. Però in realtà sono più aspetti un po' più applicativi su questo tema. Ho trovato, diciamo, in studi paralleli, diciamo, non di filosofia di diritto, non di ideologia sociale, l'importanza del documento. Ad esempio, in molti storici, ho scoperto che ricollegano lo sviluppo delle istituzioni a un certo modo di gestire i documenti. Quindi c'è una letteratura che negli anni 90 ha preso un'ampia piega e quindi mi sto un po' documentando su queste cose. Beh, in fondo lei è un po' un pioniere in questo senso, no? Perché l'argomento specifico del documento non era stato trattato in maniera così completa. No, nell'ambito della filosofia del diritto, no, esatto, c'è il professor Rossetti, che è il professore con cui io collaboro in Bicocca, che ha pionieristicamente aperto, diciamo, le danze. Io mi sono messo un po' in quella scia, però no, altri lavori non ce ne sono, almeno nel nostro, in Italia, nell'ambito della filosofia del diritto. Bene, allora complimenti, auguri per la pubblicazione e anche per la prossima. Speriamo. Allora, a presto. Allora, a presto. Allora, a presto. Allora, a presto.